Si avvicina il 6 luglio, data fissata dalla Regione Calabria e da quasi tutte le regioni d'Italia, per la partenza dei saldi estivi 2024. Con l'arrivo dei saldi estivi, ConfCommercio Calabria ha condotto la consueta indagine tra le imprese e i consumatori calabresi per delineare le previsioni e le tendenze di quest'anno. I risultati offrono uno spaccato interessante sul panorama commerciale regionale e sulle aspettative economiche per i prossimi mesi. L'indagine, condotta dall'ufficio studi di ConfCommercio Calabria, ha coinvolto un campione significativo di piccole imprese con un organico compreso tra 0 e 10 dipendenti. È un numero di punti vendita tra 1 e 5. Tra le aziende partecipanti, il 57,1% appartiene al settore dell'abbigliamento, il 42,9% agli accessori e il 28,6% alle calzature, con alcune imprese che operano in più settori contemporaneamente. Una notevole fiducia emerge dai dati. Il 71,4% delle imprese prevede un incremento delle vendite rispetto all'anno precedente, mentre il restante 28,6% teme una diminuzione. Nessuna impresa si aspetta una situazione invariata. Riguardo gli sconti, il 57,1% delle imprese applicherà inizialmente una riduzione tra il 10% e il 30%, mentre il 42,9% offrirà sconti tra il 40% e il 60%. Sul fronte dei consumatori, la spesa a media pro capite si attesta tra i 100 e i 200 euro. Per il 66,7% delle famiglie, la spesa media supera i 200 euro, con un 33,3% che dichiara una spesa superiore ai 300 euro. Questo dato sottolinea l'importanza dei saldi per le economie domestiche. Infine, l'indagine ha rilevato una preferenza ancora marcata per gli acquisti nei negozi fisici, con il 65% dei consumatori calabresi, che li predilige rispetto agli acquisti online il 35%. Questo dato evidenzia la resilienza del commercio al dettaglio tradizionale, nonostante la crescente digitalizzazione del mercato. Consigli per gli acquisti. La possibilità di cambiare il capo dopo che lo sia acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato non conforme. In questo caso, scatta l'obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo. E nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto. Per gli acquisti online, i cambi o la rescissione del contratto sono sempre consentiti entro 14 giorni dalla ricezione del prodotto, indipendentemente dalla presenza di difetti, fatta eccezione per i prodotti su misura o personalizzati. Per la prova dei capi non c'è l'obbligo, è rimessa la discrezionalità del negoziante. Per i pagamenti, le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante e vanno favoriti i pagamenti cashless. Per i prodotti in vendita, i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole depreciamento se non venduti entro un certo periodo di tempo. Obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e generalmente il prezzo finale. In tutto il periodo dei saldi, il prezzo iniziale sarà il prezzo più basso applicato alla generalità dei consumatori nei 30 giorni anticedenti, l'inizio dei saldi.